Benvenuti a Tavola, è un programma presentato da Pescheria Sartor a Belluno. Benvenuti a Tavola, buon martedì, ben ritrovato Simone. Grazie. Benvenuti nello spazio dedicato alla cucina. Simone, ieri abbiamo fatto la base, oggi invece li riempiremo. Esatto, facciamo un frangipane, una farcitura insomma, composta da mandorle, zucchero a velo, farina 00, due uova e del burro. Abbiamo dato gli ingredienti, cominciamo la ricetta. Giorgia, come sempre, iniziamo con la planetaria, iniziamo con il burro, precedentemente ammorbidito, anche qui. Assolutamente, e lo zucchero a velo. Simone, tu tendenzialmente usi lo zucchero a velo per qualsiasi preparazione che lo richiede? Esatto, in pasticceria lo zucchero a velo serve per far sì che si sciolga maggiormente lo zucchero all'interno di una ricetta. Buono. Prendiamo le uova. Aumentiamo un po' la velocità. Quanto è importante, anche per chi lavora in maniera amatoriale, la qualità delle materie prime? È indispensabile, guarda. Ad esempio, queste uova sono andate direttamente all'entiaia a prenderle, dove c'è un allevamento biologico e, anche se costano di più, la qualità si sente, insomma. Una volta che si è amalgamato, uniamo a filo, non in un colpo solo, è molto importante. Ok, a casa aumentate la velocità. Esatto. In maniera tale che il burro si stacchi dalle pareti. Quindi, una volta montato, iniziamo con le polveri. Le uniamo. Le amalgamiamo. Fermiamo la planetaria. E cambiamo dall'innesto a foglia allo scudo. Uniamo le polveri. Adesso lo aumentiamo. Questa è la consistenza. Passaggio successivo è quello di prendere una sac à poche con una bocchetta liscia. Inseriamo il nostro frangipane e lo andiamo a dressare. Simone, hai qualcuno che ti aiuta nei tuoi esperimenti o ti piace proprio l'arte della pasticceria in solitaria? No, io ho la mia ragazza che mi dà una mano quando praticamente abbiamo voglia di dolce. Lei ha l'idea e io la sviluppo. Lo inforniamo a 160 gradi per altri 15-20 minuti. Dipende molto dal forno, ecco. Direttamente dal mare sulla vostra tavola Pescheria Sartor a Belluno via Zuppani vicino a Piazza Piloni Il miglior pesce pescato acquistato direttamente nei porti dell'Adriatico e scelto per voi Garanzia di assoluta freschezza Pescheria Sartor in via Zuppani a Belluno e nei mercati provinciali Pescate la qualità! La nostra piccola meraviglia è pronta è uscita dal forno a questo punto Simone la decoriamo? Esatto Usiamo della Chantilly al cioccolato bianco Possiamo unire dei lamponi delle meringhe Simone devi aprire una pasticceria ti piacerebbe? Assolutamente Simone io ti ringrazio noi ci rivediamo naturalmente domani a Benvenuti a Tavola